ragazze ciao ragazzi buonasera come va dalle vostre parti allora oggi andiamo con una canalizzazione che mi è stata chiesta è molto interessante quindi per chi guarda il video la prima volta che si collega non è che stiamo facendo una sola variante per non dare la possibilità di scelta ma si tratta solo di cercare di canalizzare un pensiero ed essendo poi comunque una canalizzazione generale perché non ci stiamo basando su una data di nascita una fotografia una persona molto probabilmente ci saranno cose che potranno interessare scusatemi ad alcuni di voi c'è chi magari si riconoscere in pieno chi troverà qualche spunto di riflessione chi magari troverà quella frase proprio quella frase specifica io vi ringrazio per i commenti vi ringrazio per seguire il canale vi ringrazio perché lo state facendo crescere tantissimo e quello è merito vostro non è assolutamente merito mio al massimo è merito nostro ma senza di voi non avrei mai potuto fare nulla è bellissimo sentirvi per i consulti privati e che dire vogliamo cominciare ne mescoliamo io mi scuso per chi magari non conosce bene i miei limiti soprattutto la parlantina un po' veloce però è diciamo pregio difetto del mio modo di essere quando inizio seguo veramente un flusso di coscienza che io sento dentro di me probabilmente non mi appartiene lo solo capto e andare lentamente significa per me perdere il ritmo e poi iniziare a inventare un certo punto invece no se riesco a seguire la mia intuizione riesco a rimanere concentrata e centrata su quel messaggio che ripeto io percepisco poi ve lo affido detto ciò questo è solo perché giustamente dice corri troppo corri troppo ma non me ne vogliate non lo faccio apposta vediamo un po' a proposito voi mi direte direte ma cosa andiamo a canalizzare canalizziamo questa questo è il città le parole che avrei voluto sentirmi dire da te vediamo un po' iniziamo che la fine fosse inevitabile lo avevo capito anzi probabilmente già da molto tempo avevo iniziato a distaccarmi quanto meno razionalmente ma non nel sentimento ma quando tu hai affondato quel pugnale dentro di noi perché tanto lo sai che siamo una cosa sola siamo inchiodati l'uno all'altro quando tu hai affondato quel pugnale accusandomi di essere gelosa tra l'altro e sapevi benissimo che semplicemente la nostra situazione stava andando a morire per tanti altri fattori ma come hai fatto avrei voluto quanto meno che tu mi dici sì guarda devo andare non possiamo continuare perdonami forse tornerò forse non tornerò però sappi che non lo faccio con cattiveria è che non posso sottrarmi a quella che è la mia vita a quelli che sono i miei legami e invece tu hai affondato il pugnale senza dire nulla non viene anche guardato in faccia eppure solamente poco tempo prima ero la donna della tua vita promesse grandi parole progetti per il futuro programmi assieme staremo sempre insieme io lascerò i miei impegni i miei vincoli voglio sempre stare al tuo fianco andremo nella stessa direzione tempo ci vorrà ma noi riusciremo a coronare il nostro sogno d'amore su quello stesso sgabbello dove ora siamo solamente due tavole separate da un pugnale su quella stessa realtà prima c'era una coppa enorme c'era il simbolo del nostro amore della nostra promessa ho aspettato tantissimo che tu ti facessi vivo ho aspettato che il tempo passasse che la situazione mutasse e che gli eventi si dessero ho aspettato un messaggio ho aspettato un email ho aspettato una telefonata ho passato ore giornate ad attendere fino a quando veramente ho iniziato a perdere la speranza ma non tanto di un tuo contatto ho iniziato a perdere anzi ho iniziato a perdere la fiducia in me stessa e ho cominciato a chiedermi probabilmente sono io che non ho capito nulla quello che avrei voluto sentirmi dire da te è semplicemente un arrivederci lo so sarebbe stata una bugia però perché perché far male in maniera così diretta a una persona che fino a poco tempo fa dicevi di amare perché ammazzare quella passione che fino a poco tempo fa era in realtà rigogliosa a volte mi domando se sia stata colpa mia forse è stato un mio atteggiamento forse non ho dato abbastanza non so energia sentimento a volte resto senza parole e forse le parole che avrei voluto sentire da te sono quelle che mi ripeto tutti i giorni io ti dico la verità mi sono sentita cadere mi sono sentita mancare mi sono sentita piegarmi sulle ginocchia ho sentito il mio corpo piegarsi ho sentito la mia energia veramente abbandonarmi e la cosa peggiore è che non ho potuto fare nulla per tutelarmi io vivo la mia quotidianità normalmente certo faccio finta di nulla e non posso dire che mi manchino le occasioni per andare avanti che non abbia possibilità per scegliere o semplicemente che non abbia persone che mi guardino e mi cerchino però non ce la faccio la cosa peggiore è che io mi sento ferita nel profondo della mia non dico tanto femminilità ma proprio della mia anima io mi sono fidata di te tantissimo e quello che avrei voluto sentirmi dire è semplicemente scusami non possiamo andare avanti insieme certo ti avevo promesso grandi cose anzi non solo ti avevo promesso grandi cose ma addirittura le avevamo organizzate era tutto lì pronto finalmente per avviarci nella stessa direzione però poi alla fine non ce l'ho fatta io devo andare per la mia strada quindi ti chiedo di scendere va bene io ti avrei messo il broncio sicuramente ti avrei dato le spalle sicuramente sarei stata io a non parlarti ma tu avresti comunque ripreso la tua vita e io in fondo me ne sarei fatta una ragione invece il modo in cui tu mi hai lasciato è stato come essere licenziati da un contratto non ti vado bene più guarda l'azienda va male non posso più mantenere questa situazione o altro a cui pensare mi costa troppo mi costi troppo e quindi dobbiamo fare dettagli al personale però qual è il problema che io non sono il tuo personale io ero la tua metà e queste erano le tue parole e ricorda una cosa non sono stata io a spingere i tempi anzi proprio quando io non credevo fosse possibile costruire qualcosa insieme e ti ripetevo che la stagione i tempi non erano maturi tu proprio in quell'occasione cercato di convincermi del contrario mi ha detto che l'amore può tutto quando c'è amore si può costruire anche quando i tempi sembrano sterili sembrano non poter dare frutto solo che ho capito con il passare del tempo che quella che mi stavi porgendo non era una mano ma in realtà era lo schiaffo che mi avrebbe atterrito è vero adesso mi hai liberata da un vincolo non lo so certo qualcosa è finito per sempre io ho dovuto con grande sforzo risollevarmi però sappi una cosa io mi sono sentita veramente soffocare ho sentito l'aria mancarmi ma non dai polmoni fisici dall'anima io piano piano sto riprendendo la mia vita però non riesco a perdonarti perché con il passare del tempo dentro di me sta nascendo un sentimento di rabbia io non posso dimenticare non riuscirei dimenticare vorrebbe dire rimuovere e accantonare in un angolo dell'inconscio ciò che mi ha ucciso ciò che mi ha fatto male quella che è stata la mia condanna che ho subito senza un processo e senza possibilità di difendermi quello che avrei voluto sentirmi dire da te è stato semplicemente guarda i miei sentimenti sono stati veri forse lo sono ancora ma non è possibile per quanto io voglio tenerti con me e tu voglia tenermi con te guarda le difficoltà sono troppe non ce la faremo mai tutte queste difficoltà alla lunga ci metteranno l'uno contro l'altro allora prima di farci del male prima di indirizzare l'uno contro l'altro quella spada così come hai fatto tu in realtà lasciamosi avrei pianto che avrei chiesto magari di non farlo ti avrei chiesto ripensaci avrei cercato di mostrarti quante cose buone abbiamo fatto insieme quante ne avremmo potute fare ne potremmo ancora fare ti avrei mostrato che tra i pro e contro alla fine avremmo potuto tirare un bilancio quanto meno sufficiente ad andare avanti magari con altre dinamiche io non ti avrei mai chiesto niente tutt'al più avrei anche rischiato di rimetterci e tu lo sai non mi sono mai tirata indietro soprattutto dal punto di vista materiale io poi non ti ho mai chiesto niente non ti ho chiesto di incontrarci a casa tua non ti ho chiesto di costruire il focolare domestico con me io ti ho solo chiesto una cosa se veramente mi ami se veramente mi vuoi fa che io sia l'unica ma non l'unica nella tua quotidianità ma nei tuoi pensieri io non ti ho mai chiesto l'apparenza non ti ho mai detto esponiti o esponimi ti ho detto solo resta collegato con me affrontiamo insieme le difficoltà anche se queste difficoltà dovessero portarci l'uno distante dall'altro il tempo sta passando e ti confesso che ho iniziato a farmi una ragione probabilmente riuscirò piano piano a riprendere la mia vita ma non voglio nessuno in questo momento al mio fianco voglio solamente dedicarmi a me anche perché te lo ripeto io sono convinta che la vita ti costringerà a dovermi guardare nuovamente in faccia perché non può finire in questo modo non lo ritengo giusto è crollato tutto 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 in una maniera inumana perché è stato troppo repentino il cambiamento non puoi da un giorno all'altro passare da questo a tirarmi fuori per sempre dalla tua vita senza guardarmi in faccia senza darmi una spiegazione e ferendomi per come hai fatto perché la cosa peggiore non è tanto che tu mi abbia offesa tu mi hai mortificata hai ucciso qualcosa dentro di me non mi hai uccisa tutta io sto piangendo il funerale di parte di me ed è un lutto che non puoi comprendere io lo so che mi riprenderò so che ce la farò e so che mi rialzerò so anche che arriveranno i frutti e che questa esperienza è semplicemente un tassello del mio percorso che mi porterà diventare una donna molto più forte e sicura di sé ciò nonostante se ho un qualche credito nei confronti dell'universo chiedo che questo universo ti costringa a venirmi a parlare io non lascerò mai la tua anima lontana dal mio pensiero e non è una minaccia perché io non ti sto minacciando ma sappi che io mantengo nella mia memoria scritte con lettere di fuoco le parole che mi hai detto e non voglio vendetta io voglio solo che tu abbia il coraggio di persona di guardarmi negli occhi e tu lo sai nei momenti di grande solitudine quando sentirai quella presenza che non ti lascia riposare sono io e lo ripeto non è una minaccia è perché tu devi prendere la responsabilità delle tue azioni come io adesso accetto la responsabilità dell'essermi fidata di te sono ad un video e so che non posso più tornare nella tua direzione perché ormai tu sei andato e sei andato senza considerarmi senza volere che io potessi seguirti io torno a casa ricomincio la salita e ricomincio il percorso che non so cosa mi porterà ma so che sarà faticoso ma sarà utile per la mia crescita umanamente parlando e spiritualmente non lo so se incontrerò altre persone ma sarò ben attenta questa volta a fidarmi così come ho fatto con te ma sappi che la strada di casa prima o poi richiamerà anche te e prima o poi saremo costretti sarai costretto a guardarmi negli occhi le parole che avrei voluto sentirmi dire da te sono state semplicemente delle bugie perché in fondo è quello che tu mi hai detto in fondo ora lo posso dire io lo sapevo io lo sentivo che sarebbe finita così ecco perché le parole che avrei voluto sentirmi dire da te sono solo delle bugie avrei voluto delle bugie perché per quanto ingannevoli avrebbero quanto meno nell'immediato protetto la mia anima tanto poi avrei capito avrei metabolizzato e avrei compreso la verità nascosta dietro quella luce ingannevole che era solo il riflesso di un sole di un'armonia che tra noi non c'era più però mi sarei aspettata delle bugie dettate dal buon senso dalla volontà di difendere una persona che fino a poco tempo fa dicevi di amare